3 anni e 6 mesi e 5 anni di reclusione. Sono queste le pene inflitte dal Tribunale di Trani rispettivamente alla dirigente del Comune di Terlizzi, Francesca Panzini, e all'ex legale rappresentante della società Censum, specializzata nella riscossione dei tributi e poi fallita, Vito Red David, a processo in primo grado per il reato di concorso impeculato. L'accusa per i due è di aver intascato i versamenti dei tributi locali destinati al Comune per una montare di circa 1 milione e 200 mila euro. Gli imputati sono stati assolti invece da altri due capi di imputazione e cioè abuso d'ufficio e tentata concussione. Parallelamente alle condanne, i giudici tranesi hanno disposto la confisca di oltre un milione di euro, somma equivalenti ai tributi non versati nelle casse comunali. Dirigente e rappresentante della società finirono in manette nel maggio del 2013 al termine delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura di Trani. L'inchiesta diede inoltre avvio ad un procedimento dinanzi alla Corte dei Conti che è tuttora in corso. Il Tribunale ha anche condannato i due a risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, vale a dire il Movimento Civico, Politico e Culturale Città Civile, e lo stesso Comune di Terlizzi, costituitosi tuttavia solamente nei confronti dell'imprenditore. Gli imputati sono stati inoltre interdetti in perpetuo dai pubblici uffici.